Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vedremo insieme la maglia di casa del West Ham per la stagione 22-23, quella appena incominciata, in edizione Player, quella indossata dai calciatori. Prima di lasciarvi alla vista dei dettagli, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale, ci vediamo dopo, ciao! La maglia dell'Umbro West Ham United 2022-23 è Bordeaux, con manichere Glenn che presenta una grafica a righe in bianco e blu, ispirata a un look simile a quello degli anni 1991-93. Tutti i loghi sul davanti della maglia sono bianchi, incluso uno stemma monocromatico del club, mentre uno spesso colletto a girocollo, blu sul davanti e bianco sul retro, completa il look. Riflettono le linee architettoniche dello stadio del club, l'audace maglia da calza del West Ham di questa stagione offre un pugno con la sua grafica lineare distorta. I leggeri pannelli sulla parte anteriore e posteriore in micro diamante aiutano a migliorare il comfort e le prestazioni, mantenendoti ventilato durante il gioco. Siete qua? La maglia, a mio modestissimo parere, è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Mi piace molto, peraltro, il tessuto della versione player, quella dei calciatori. al costo che vedete qui sopra, veramente un affare da non farsi sfuggire, in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per avere un coupon da 3 dollari da spendere sul sito. La qualità è ottima, la spedizione è stata veramente molto veloce, questa è arrivata in 23 giorni e devo dire che è stata una bella sorpresa, meglio di come la si vede, diciamo così, sul video. Ora vi lascio alla parte finale, ci vediamo alla prossima. Ah, prima di farlo, mi raccomando, ricordatevi di mettere un like. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.